Allora ragazzi, oggi parleremo della partita di ieri sera dell'Inter contro il Genoa. Allora, io sono interista, quindi io ho esultato, ma secondo me quel rigore su Barella forse non ci doveva essere. Infatti parleremo proprio di quello. Allora, secondo me il rigore su Barella non era rigore perché, rivedendo le immagini, il suo avversario voleva prendere la palla, però ormai Barella aveva già tirato e quindi poi non l'ha presa. Quindi poi gli hanno dato il rigore, ma come abbiamo detto il suo avversario voleva prendere la palla, ma non ce l'ha fatta perché Barella ormai aveva tirato. E quindi colpisce la gamba dell'avversario di Barella, ma non la colpisce nettamente, la colpisce solo un pochino, quindi quello lì non sarebbe dal rigore. Al massimo si lascia correre, lo curano e poi basta. Al massimo se poi la toccavo serve questo calcio d'angolo, ma per me non era fallo. Poi, ora parliamo della partita, per me il Genoa ha giocato molto bene, quindi se qui quelli che tifano Genoa stanno guardando questo video, gli dico che la loro squadra ha fatto veramente bene, anche se poi gli ha perso 2-1. Perché ha fatto un gol tanto bello, ma tanto bello il giocatore del Genoa, non mi ricordo il nome, ma l'ha fatto veramente bello. Hanno giocato davvero bene, sfortuna per Reseghi nell'occasione prima del gol di Aslani. Ha fatto veramente un bel tiro, che poi Sommer ha fatto una grande parata. Poi, invece, quando Sommer ha respinto, il suo giocatore, il compagno di Reseghi, un giocatore del Genoa, ha tirato male. E con il passaggio è venuto male, tipo è venuto un passaggio per Reseghi, che ha tirato per affinare sull'esterno della porta. Ora parliamo del gol di Aslani. Allora, per me personalmente il gol di Aslani è stato molto bello. Perché il suo compagno, non mi ricordo chi, ma un giocatore dell'Inter gliel'ha dato proprio perfetta, in fuorigioco gliel'ha dato bella, filtrante. Poi Aslani non può sbagliare da lì, tira e segna. Veramente un bel gol. Infatti è stato il suo primo gol in Serie A. Davvero un bel gol. Poi, di nuovo del rigore, il nino meraviglia Sanchez, ritorna a segnare dopo tanto tempo nella Serie A, cioè nell'Inter. che non c'era ormai dal 2019-2020, dopo due anni, cioè dopo tre o quattro anni, torna all'Inter e segna per la sua prima volta in questa stagione all'Inter. Ora parliamo invece del fallo su Martinez, che anche quello non era tanto fallo. Prima poteva essere solo punizione per il Genoa, ma non giallo. Per me poteva essere solo calcio di punizione per il Genoa, ma il giallo per me lì non ci stava. Ora parliamo invece di Dumfries e di Darmian. Allora, Dumfries non ha giocato tanto bene. Infatti poi è uscito e ha preso anche un giallo. E poi è entrato Darmian che ha fatto veramente una bella partita. Ha giocato bene. Poi parliamo anche di Marco. Ha giocato anche bene. Lui ha dato delle belle palle. E ora parliamo anche di Carlos Augusto. Anche lui ha giocato veramente bene. Infatti una volta ha dato una bellissima palla per Martinez. Che poi... No, non era Martinez. Comunque l'ha dato a un giocatore che poi ha tirato fuori. Allora, poi parliamo di Sabelli, il giocatore del Genoa, che era a coprire di Marco. Ma l'ha coprito veramente bene. L'ha marcato davvero bene. Applausi. Infatti ho udito per Sabelli che ha anche scartato molto bene di Marco. E ha giocato veramente bene. Poi parliamo ora anche di Turam. E di Arnautovic e di Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ha fatto una partita abbastanza bene, ma non tantissimo. Non era carico come le solite partite. Poi Arnautovic è entrato bello carico. Ha sbagliato qualche tiro, ma secondo me poteva trovare il gol. Infatti, quando è entrato all'86, all'87, insomma, in quei minuti lì, ha tirato, ma ha fatto una grande parata Martinez, il portiere del Genoa. Che poi lì Turam, come l'ha detto anche il telecolonista, poteva andare subito e ritirare un'altra volta e magari cercare il 3-1 e di chiudere la partita. Poi ora chiudiamo questo mio primo video lungo, perché fino ad ora ho fatto solo i shorts e mai un video lungo. Chiudiamo il video lungo parlando di Inzaghi e di Gilardino. Allora, il telecolonista mi ha detto, ad un certo punto ha detto, che Gilardino, anche se stava perdendo 2-1, anche se ha perso, era molto soddisfatto dei suoi giocatori. Era molto soddisfatto dei suoi giocatori. E ha fatto quello che doveva. C'è il babbo giù, c'è il babbo giù al telefono che ti vuole. Fila, vai. Oh, sping.